Fatto sta che questo veramente delle emergenze non potevamo farlo passare perché si continua a utilizzare la tattica di temi sensibili come quelli del terremoto per poi inserire all'interno provvedimenti che non c'entrano assolutamente niente col tema del decreto. Quindi tattiche parlamentari, quelle famose tattiche parlamentari che ho ribadito in aula al ministro Franceschini e si è permesso di dire che noi utilizziamo le tattiche parlamentari.